Semplice, affidabile, trasparente. Presentato in sala giunta a Palazzo San Giacomo, il nuovo servizio WeTaxi, l'app nata nel 2017 a Torino, che consente di chiamare un taxi in modo rapido e trasparente. Dopo il successo riscontrato nel capoluogo piemontese, a Modena e in altre 12 città, anche i tassisti di Consortaxi di Napoli abbracciano la tecnologia della piattaforma Smart per portare in città un servizio sempre più efficiente. WeTaxi ha introdotto un modello di mobilità intelligente, come spiega l'amministratore di WeTaxi, Massimiliano Curto. WeTaxi porta una piccola rivoluzione in giro per l'Italia, che è la trasparenza. Oltre chiaramente alla comodità di poter prenotare un taxi tramite un'app e di poterlo pagare tramite i più comuni sistemi di pagamento elettronici, ma la vera novità è poter sapere sempre in anticipo quanto si spende. Quindi per tutti gli utenti che pagheranno tramite l'applicazione, WeTaxi sarà in grado di dire in anticipo qual è il costo della corsa, qual è il costo massimo della corsa. Chiaramente il nostro servizio si integra con le predeterminate del comune, quindi questo succede solo laddove non esista una predeterminata del comune, ma questo permetterà anche a clienti che oggi non utilizzano il taxi, anche perché non conoscono quanto costa, di poterlo utilizzare. Un servizio che sarà immediatamente utilizzato a Napoli da tantissimi appassionati dei libri che vorranno partecipare al Salone del Libro, a parlarcene l'assessore ai giovani Alessandra Clemente. Un itinerario accessibile e fruibile, voluto quindi per rendere la cultura accessibile e fruibile a tutti e in modo vantaggioso da qualunque quartiere della città di Napoli. La location quest'anno del Salone del Libro, voluto dalla città di Napoli, è il bellissimo Castel Sant'Elmo e quindi raggiungiamo San Martino mettendoci in taxi. Gli oltre 400 tassisti di Consortaxi avranno a disposizione un'ulteriore risorsa per gestire le corse e per offrire un servizio migliore ai propri clienti. Questo il commento dell'assessore alla mobilità Mario Calabrese. Io spero che questa app ci consenta finalmente di rendere veramente più strutturato e quindi meglio veramente funzionante in questo servizio nel quale io personalmente, ma penso tutti quanti crediamo molto. Quindi oltre a fornire un supporto, una novità per il cittadino, cioè un aiuto praticamente per i cittadini anche sull'utilizzo per il taxi normale e anche per il taxi collettivo, secondo me è una buona notizia.